Il master universitario per il Catania, che ha presentato l'iniziativa nei giorni scorsi a Torre del Grifo, tra i relatori anche il professor Giuseppe Caruso. Prima di vedere il servizio nei dettagli e sentire anche Pietro Lomonaco, nuovamente ricordiamo di cosa si tratta e chi è aperto questo master di management di primo livello. Sì, il master è un master universitario di primo livello in management sportivo che è aperto ai laureati, essendo di primo livello, ai laureati delle triennali, ma anche ovviamente ai laureati della magistrale e ai laureati di vecchio ordinamento, di tantissime facoltà, economia, ingegneria, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione eccetera. L'idea è un'idea unica nel sud Italia, non lo dico solo perché sono il coordinatore del master, ma anche perché obiettivamente basta fare una ricerca per vedere che non ci sono da Roma in giù master universitari che possano vantare un partenariato uguale al nostro. Ci sono dei master da Roma in su, spesso non sono universitari, quindi con un titolo che non ha valore legale e comunque sia, come magari vedremo tra poco, non possono appunto vantare il capitale relazionale che il Catania è in grado di mettere in campo, è una struttura di gestione universitaria alle spalle che possa supportare il tutto. Sentiamo Alessandro Fragalà, ci spiega nei dettagli questa prestigiosa iniziativa tra il Calcio Catania e l'Università di Catania. Il Catania sale in cattedra e fa lezione master, una prestigiosa iniziativa, la prima edizione del master universitario di primo livello in management sportivo, organizzato dall'Università di Catania in collaborazione con il Calcio Catania, con il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio della Lega Serie A. Un momento d'eccellenza culturale, riservato ai laureati in economia, scienze politiche e giurisprudenza, scienze della formazione, medicina e chirurgia, ingegneria, scienze della comunicazione, pedagogia, scienze motorie e sociologia. Quello del manager sportivo è un ruolo di cui si ha sempre più bisogno in aziende che vanno sempre di più a professionalizzarsi, quindi secondo me è una bella opportunità. I 40 laureati ammessi al master svolgeranno 1300 ore complessive di lezione, 600 in aula a Torre del Grifo Village, le altre 700 di stage nelle sedi delle 12 società calcistiche italiane che hanno aderito al progetto. Juve, Milan, Inter, Udinese, Cagliari, Lazio, Palermo, Parma, Napoli, Novara, Regine e Bologna. Il corso sarà suddiviso in quattro aree tematiche, dal diritto dello sport alla voce sport, business and administration, dall'economia dello sport alla medicina sportiva. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2011. Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate il 30 dicembre 2011, mentre le lezioni avranno inizio il 1 febbraio del 2012. Da Roma in giù corsi del genere non erano mai stati fatti, perché è un momento di crescita importante, perché i laureati che partecipano a questo corso possono essere eventuali reggenti del Catania di turno, perché dà delle possibilità di lavoro. Quindi è una cosa che ci è piaciuta fare e che cureremo con particolare attenzione. Abbiamo dunque sentito anche Pietro Lomonaco, professor Caruso. Quindi, aperto a tutti i laureati? Sì, è aperto a tutti i laureati. Io vorrei spendere due parole sul partenariato, perché rappresenta un elemento di assoluto prestigio, ma non solo di assoluto prestigio, ma anche una chiave di successo potenziale di questo master. Perché non è soltanto una lista ed un elenco di bei nomi, quello che avete sentito nel servizio, Juventus, Inter Milan, Napoli, CONI, Lega, FIGC, eccetera. Il punto è che tutte queste società e questi enti garantiscono la disponibilità ad ospitare in stagio i corsisti. Questo vuol dire che naturalmente il corsista avrà la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di possibilità e questo vuol dire opportunità di farsi conoscere presso le società e quindi di farsi apprezzare per ciò che si vale e riuscire ad avere sbocchi lavorativi possibili. Il costo per l'iscrizione è intorno ai 7 mila euro, credo. Il costo per l'iscrizione è un po' meno di 7 mila euro, 6 mila e 800 euro circa, ed è un costo che è assolutamente non in linea, ma inferiore rispetto agli altri master simili. Anche qui, se mi permette due parole, da Roma in su un master costa dagli 8 ai 12 mila euro circa. Ripeto, spesso non sono neanche master universitari e la cosa importante è che il capitale relazionale del Catania che ci è stato messo a disposizione dalla società ci permette di avere dei docenti che sono almeno a livello di quelli degli altri master perché non solo le società sportive, oltre a garantire la possibilità dello stagio, manderanno giù dei testimoni di eccellenza, verrà Marotta, verrà Bete, verrà Beretta, verrà Paolillo dell'Inter, Galliani del Milan, ma al di là anche qui dei grossi nomi i responsabili dei servizi marketing, comunicazione, programmazione, area finanziaria delle varie società sono disponibili a venire giù per fare delle lezioni. Quindi anche il livello delle docenze, al di là delle docenze universitari, il master è tarato in modo da avere il 50% di docenze universitari e non necessariamente università di Catania, è il 50% di docenze, testimonianze di esperti del settore. Ricordiamo anche che ci sarà una graduatoria che verrà pubblicata entro dicembre. Più che la graduatoria dobbiamo ricordare che il termine di iscrizione scade il 15 dicembre, poi la graduatoria verrà fatta entro il 30. Le lezioni cominceranno? Il primo febbraio. Il primo febbraio a Torra del Grifo perché la sede del corso sarà lì, tra l'altro è un master residenziale quindi i corsisti che volessero avranno la possibilità di soggiornare e mangiare anche a Torra del Grifo senza ulteriori costi ovviamente aggiuntivi. Alla stanza di Maxi Lopez? Questo non lo so, dobbiamo chiedere al direttore. O di altri dico. Sì. Sì.